500 alpina, scorditi con i palloncini, ragazzi, alzate le mani al pubblico qua per applaudire il vostro passaggio siete superi di un fiume colonnato che va a arrivare con indiano a Treviso siete fantastici e con l'aiuto del pubblico 5, 4, 3, 2, 1 questa roba grazie a tutti voi grazie a tutti 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 grazie a tutti